Questo programma è offerto da Sportit.com Ben trovati amici di Italian Fishing TV Oggi mi trovo al Parco Colle Celeste a Maiolati Spontini Piccolo comune marchigiano noto per aver visto nascere il compositore musicale italiano Gaspare Spontini Come ogni puntata io vi ricordo che il partner ufficiale di Photofish è Sportit.com Il nostro riferimento online per quanto riguarda gli articoli per lo sport ma soprattutto la pesca A questo punto io direi di iniziare subito con la nostra classifica In quinta posizione troviamo il simpaticissimo sguardo di George Impegnato a recuperare la sua cattura che gli sta letteralmente scappando dalle mani La quarta posizione invece se la giudica il suggestivo scatto di Francesco E adesso saliamo sulla terza piazza del podio E troviamo lo scatto di Gabriele Questi sì che sono gli insegnamenti che ci piacciono Siamo arrivati alla medaglia d'argento Sullo sfondo abbiamo uno dei luoghi più famosi di Firenze E davanti una bellissima cattura Questo scatto mi è stato inviato da Tommaso Il gradino più alto del podio invece se lo aggiudica Matteo con la sua cattura Anche Matteo come tutti i vincitori prima di lui si aggiudica un premio messo in palio da Italian Fishing TV E un buono da poter utilizzare su sportit.com Siamo giunti al termine di questa puntata di PhotoFish Io aspetto numerosissimi i vostri scatti E vi ringrazio per tutti quelli che ci inviate Io vi saluto e rinnovo l'appuntamento per la prossima puntata Da Colle Celeste è tutto Ciao! Ciao!